I cari sappiamo che stanno lavorando, anche se non siamo ancora andati a disturbarli, ma sapevo benissimo che stanno andando avanti, sappiamo anche che qualcuno non farà solamente delle semplici composizioni, ma cominciano a muzzare qualcosa, vuol dire che ci staranno un po' sperimenti per poter fare una cosa in più, ma siamo stati un po' qualche volta abuniti dalla vita.